Il mio sì avrebbe sicuramente soddisfatto un... Anna! Un... Anna! Un atteglio personale. Oh, Anna! Oh, padre, insomma, che vuoi? Niente, ma che stai facendo? Cosa sto facendo? Sto sbobbinando l'intervista del personaggio dell'Arma, che pubblicherebbe sul nostro annuario. Scusate, ma che ci stai da ridere? No, no, niente, stiamo vedendo X Fatto, il talent giornalistico canoro dei fratelli Lucci, che presenteremo il 22 al Cinema Pacifico. E quindi? E quindi, niente, se adesso te lo vieni a vedere anche tu, vedi che è tutto da ridere. Ah, cioè finisci da dare luce qui un'altra volta? Ma no, no, Patrizio, ci saranno anche tante cose serie, come il giornalista Raikardo Paris, che intervisterà Gabriele Gravina. E poi tanto altro, cultura, arte, insomma, ci saranno delle belle. E quando è questa serata? Il 22 dicembre alle 18 al Cinema Pacifico. Vabbè, allora vi aspettiamo sabato 22 dicembre, ore 18, Cinema Pacifico sul Muna. Ah, è gratis, eh?